A questo punto non ci resta che aggiungere un po' di disturbi, abbiamo già affrontato questo argomento, un po' di polvere, pelucchi vari su un livello superiore. Anche qui possiamo operare la stessa suddivisione che abbiamo fatto nel lavoro precedente, mettendo delle piccole abrasioni in bianco su di un livello e altre su un livello a parte colorato. Cominciamo intanto con vedere che cosa succede al momento in cui cominciamo a lavorare con uno piuttosto che con un altro, recuperiamo l'ultimo pennello che avevamo usato, reimpostiamo un po' tutti i settaggi che avevamo messo, compreso quello di dispersione molto importante, riduciamo magari un po' la grandezza del pennello, colore bianco e proviamo una prima applicazione con opacità 100%. E senza esagerare, vedete soprattutto mi muovo vicino ai bordi, ma un po' casualmente anche al suo interno. Guardiamo più da vicino la nostra immagine, abbastanza rovinata direi rispetto all'originale, e anche in questo caso noi possiamo divertirci a introdurre tutta una serie di elementi tipo appunto piccoli pelucchi o piccole e grandi macchie che possono sovrapporsi o meno a tutte le nostre informazioni originali. Vediamo di cambiare il pennello, ok, mantenendo le stesse impostazioni, abbiamo cambiato praticamente solo la punta del pennello e con un colore diverso dal bianco lavoriamo un po' sul livello superiore, ecco qui, scelto un po' a naso e con piccole applicazioni, magari ancora più scure. L'abbiamo invecchiato veramente ben bene la nostra immagine. Dunque, sistemiamo un po' i livelli di opacità dalle nostre macchie, che non è detto che debbano essere per forza coprenti. E adesso introduciamo per ultimo un altro elemento tipico di foto abbastanza antiche, che sono le piccole fessurazioni, piccoli strappi, ma strappi più che altro da allogoramento. Poi, per quanto riguarda gli strappi veri e propri, ce ne occuperemo nell'ambito del prossimo lavoro. Per quanto riguarda l'applicazione di strappi di piccole fessurazioni, appunto, dicevo, la cosa migliore, anche in questo caso, è non certo andare a dipingerli direttamente con il pennello, non perché magari non si riesca a farli abbastanza attendibili, ma comunque si rischia sempre un qualche problema di verosimiglianza. E' sempre bene andare a fare riferimento con qualcosa preso dalla realtà. Hanno molto bene, per esempio, dei cartoncini provenienti da varie tecniche di stampa. Possono essere cartoncini stampati tipograficamente. Vi raccomando, soprattutto, quelli su un fondo scuro, proprio perché è più semplice isolarli e poi utilizzarli nel nostro lavoro. Oppure anche stampe realizzate con apparecchi laser. In questo caso il toner si stacca facilmente dal supporto cartaceo. I supporti cartacei sono sempre bianchi, quindi il buon contrasto è assicurato. Adesso faremo riferimento a quest'immagine. E andremo da qui a cercare di estrarre alcune screpolature, alcuni tagli. Anche in questo caso è bene lavorare su una prima ottimizzazione dell'immagine stessa. Togliamo le informazioni sul colore. Aggiungiamo un buon livello di contrasto che taglia via tutti i toni intermedi. Ok, a questo punto selezioniamo, magari in questo momento facciamo pur a meno della sfumatura, selezioniamo un singolo taglio, facciamo sempre una copia e andiamo sul nostro immagine originale. Andiamo a incollarla e vediamo che cosa possiamo ricavare da questo. La modalità di fusione chiaramente in questo caso diventerà schiarisci. Ed ecco, molto debole rispetto a quello che sembrava in un primo momento, ma possiamo anche andare a pescare fessurazioni sicuramente più evidenti. Prendiamole tutte e le separerò più tardi con calma. Colpa di tabulazione per nascondere le palette. In questo caso mi diamo un po' di fastidio. Ecco fatto. Rifiniamo un po' le parti non nere che non mi interessano. Vediamo un attimo dove mi trovo. Copiamo l'immagine e andiamo ad incollarla sopra la mia foto del borghetto. Immagine molto più ampia di quanto avessi voluto, probabilmente, ma posso comunque separare i vari pezzi con il comando livello nuovo crea livello tagliato. Mi riposiziono sul livello originale, tolgo la selezione automatica livello e recupero le altre aree. Di nuovo, livello nuovo, crea livello tagliato, di nuovo livello 2, strumento sposta e recuperiamo gli ultimi due pezzettini. In questo caso non ho da tagliarli. Riposizioniamo tutte queste piccole crepe, aiutandoci anche con i tasti direzionali. Vediamo a quale tipo di effetto andiamo incontro. Schiarisci e infine schiarisci. Sicuramente è meglio non localizzare più di tanto alcuni pezzi, ma questo è un giudizio assolutamente personale. Possiamo copiare, spostare, trasformare, la formazione libera in questo caso, e riposizionare ancora quello che vogliamo. Stando attenti a non far percepire più di tanto le somiglianze tra le varie crepe, se noi le duplichiamo, le selezioniamo tutto e guardiamo un attimo che cosa abbiamo ottenuto. Ok, direi che per il momento possiamo fermarci qui. Abbiamo invecchiato a dovere la nostra foto, l'abbiamo fessurata, l'abbiamo virata, l'abbiamo macchiata, l'abbiamo coperta di polvere, di piccoli strappi, di usura, e soprattutto, insomma, avete capito un po' la filosofia di questo tipo di lavoro. Possiamo anche unire tutti questi strappi in un unico livello, chiaramente dobbiamo poi riassegnare la modalità di fusione schiarisci, e guardiamo un attimo più da vicino il risultato dei nostri strappi. Se non dovesse essere del tutto convincente, ricordatevi che possiamo agire su una certa quantità di tolleranza riguardo le aree chiare o le aree scure degli detti strappi. Grazie.